Lunedì inizio la dieta. A settembre mi iscrivo in palestra. Ma no, forse è meglio a dicembre. O meglio andare dopo le feste. Dimmi la verità, anche tu soffri di rimandite acuta. Ciao, sono Fabio e sono Personal Trainer. Lavoro e vivo a Catania. Alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. La maggior parte delle persone rimandano al loro appuntamento con la forma fisica e con la migliore condizione di salute per due ragioni. Mancanza di motivazione e mancanza di un metodo. Rimandano costantemente a lunedì l'inizio della dieta, a settembre, a dopo l'estate, a dopo le feste, l'iscrizione in palestra. E per decenni non riescono ad acquisire una regolarità con l'allenamento. Nel video di oggi ti offrirò tre suggerimenti pratici per smettere di rimandare il tuo appuntamento con la tua salute e con la tua forma fisica. Suggerimento numero uno. Prendi carta e penna, adesso, e scrivi come vorresti vederti fra tre mesi. Poggelo sul comodino e leggelo tutte le sere prima di andare a letto e ogni mattina al risveglio, prima di sbirciare il tuo smartphone. Suggerimento numero due. Contatta subito un personal trainer e chiedi assistenza, soprattutto nella fase d'avvio della tua attività sportiva. Un bravo personal trainer ti aiuterà a selezionare le attività più adatte alle tue esigenze e scarterà inutili perdite di tempo. Suggerimento numero tre. Non pensare che l'attività che più ti diverte e che offro nella palestra sotto casa ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Tornare in salute e in forma è un argomento importante. Iscriviti esclusivamente in una palestra dove potrai ricevere reale assistenza, e non quella geograficamente più comoda da raggiungere. Riepilogando, sono tre i suggerimenti che devi applicare subito. Suggerimento numero uno. Prendi carta e penna e scrivi come vorresti vederti fra tre mesi. Suggerimento numero due. Chiedi assistenza ad un personal trainer, soprattutto nella fase d'avvio della tua attività sportiva. Suggerimento numero tre. Iscriviti esclusivamente in una palestra dove potrai ricevere assistenza da parte di un personal trainer. E smetti di pagare abbonamenti annuali per poi non frequentare. Se vive l'Ori a Catania, contattami e pronota una consulenza gratuita e senza impegno alcuno, per valutare insieme i tuoi obiettivi. Ciao e al prossimo video!